Il concetto di Renato Zero, che data è oggi? 2 giugno 2007 Sorcini, Renato, Sessato, Sessato, accompagnati da... No, no, lascia il farlo, stiamo facendo un video documentario su... No, un video documentario, però ci riprenda anche a voi, eh? Sì, e noi stiamo già così e... Ciao ragazzi! Sì, e noi stiamo... Ciao! Ciao!